e prendere il sole è un roditore due o tre è un roditore mangia mais ma mangia anche legno come in castor che mangiano il legno e fanno le verdighe in legno. Castora che cazzo? 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 Io l'ho visto vicino a San Daniele che c'è un lago di Ragogna ma non era così grande si vedeva un po' era un giovane è grandissimo è un po' si si non tre mangiano di tutto ma non tre mangiano di sassi bravo ma non tre mangiano di sassi Castora ha ancora i denti davanti lì che mangia tutto?